prova assaggio buona buona un picco di sale dei cucchiai di zucchero montiamo bene ho montato le uova con lo zucchero e aggiungo la panacida potete aggiungere anche anche un barattolino di yogurt intero 180 grammi di panacida olio di girasoli più o meno 6 cucchiai 300 grammi di farina la setacciamo la setacciamo per la setacciamo potete aggiungere anche la setacciamo mettiamo l'uvetta dentro perché a me l'uvetta la uso molto da quel sapore così d'inverno mescoliamo bene guardare che meraviglia poi se avete le noci potete mettere anche un po due tre noci a pezzetti mettiamo in un stampo composto questo lo lascio da parte perché vorrei fare anche uno piccolino e di schiora di canna sopra per far caramellizzare un po e per non bruciare le mele e un po di cannella prima avevo detto che non ce l'ho però l'ho trovata c'è un altro un altro barattolino ragazzi guardate ragazzi è pronta bella bellissima torta le mele uvetta da poco facciamo la provassaggio provassaggio bella buona buona bella buona 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 buona